forse bisognerò vado piano piano intanto vedo che non c'è nessuno è quello che succede a me ogni tanto ragazzi mi dispiace grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa qua tra l'altro mi è bellissima. Sono perfetti i rapporti. E poi rifreschiamo tutto dopo questa sera. Grazie a tutti. L'ultimo poi raffreddiamo. Non lo raffreddiamo. Ha ha ha! Noi controlli che intervengono ordinati. Non lo raffreddiamo. Non lo raffreddiamo. Bellissimo. Non lo raffreddiamo. 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 Grazie.